Due parole conclusive su questo Inter-Bologna 1-2 che purtroppo decreta l'uscita dell'Inter dalla Coppa Italia dopo due anni di fila in cui l'Inter l'aveva vinta e quindi già questa comunque è una notizia. In queste ore tanti commenti, tante questioni di cui parlare ne abbiamo approfondito a lungo anche sul nostro club www.passionientra.club ci tenevo a fare giusto quest'ultimo contenuto con due parole conclusive sulla partita oltre a tutto quello che abbiamo già detto nella diretta di ieri e negli altri contenuti pubblicati in queste ore e anche oltre a quello che diremo poi in diretta questa sera dove continueremo a parlarne e chiuderemo lì il capitolo definitivo. Ben ritrovati amiche e amici, passione e interisti, come sempre vi chiedo un clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e voglio partire da un messaggio innanzitutto che è un messaggio che in parte ho voluto lanciare già ieri ma lo voglio ribadire. Niente drammi, niente drammi, mi sembra che alcuni stiano reagendo in maniera un po' esagerata nei confronti di questa sconfitta che secondo me, mia opinione, nasce da una partita che di fatto è girata male, molto banalmente. L'Inter ha fatto la sua partita, ha creato tanto, ha tirato molto più dal Bologna, ha avuto un dato sugli expected goal che dopo vedremo nettamente superiore, ha fatto un solo goal sbagliando anche un calcio di rigore e il Bologna è stato bravo e fortunato nel fare invece due goal negli unici due tiri in porta della sua partita. Abbiamo sempre detto fin da inizio stagione che difficilmente l'Inter, come qualsiasi altra squadra, può durare per tutto l'arco dell'annata ai ritmi che stiamo tenendo. Abbiamo sempre detto che prima o poi le difficoltà sarebbero arrivate. Se la nostra reazione a questa partita in questa competizione è questa, mi preoccupo un attimo quando capiterà, perché secondo me prima o poi capiterà che magari anche in campionato per un paio di partite non si riesca a vincere. Quindi il mio messaggio è niente drammi, poi ognuno chiaramente reagisca come preferisce. I numeri di questa partita, vi dicevo, expected goal 2.75 Inter 0.49 Bologna, già questo è secondo me il dato più importante, ve ne do altri facendoli anche leggere per chi ci segue da YouTube. Tiri totali 21 Inter 7 Bologna, tiri in porta 6 Inter 2 Bologna, lo stesso palla a nostro favore, e più in basso c'è anche il dato dei calci d'angolo, 12 Inter 1 Bologna, l'unico calcio d'angolo che hanno battuto ha poi portato il gol dell'1-1. Questo che cosa significa? Significa che la partita ieri, al di là di tutto quello che possiamo dire, comunque è stata giocata bene, l'Inter ha fatto la sua gara, è stata ovviamente meno cinica, meno precisa del solito, perché altrimenti avrebbe vinto 2-3-0 probabilmente, e poi si è fatta, diciamo, sorprendere in maniera anche un po' sciocca, se vogliamo, soprattutto sul secondo gol, e è andata a perdere questa gara. Però io sinceramente ripeto, è una gara girata male, per come la vedo io. L'anno scorso ne abbiamo viste, a nostro malgrado, tantissime così, Spezia Inter, Inter Fiorentina, Salernitana Inter, Inter Monza, tantissime gare in cui l'Inter aveva fatto un numero maggiore di tiri e aveva dominato il gioco, expected goal nettamente superiore all'avversario, sconfitta o pareggio. Purtroppo l'anno scorso è successo molto spesso, e infatti era anche complicato alla lunga commentare risultati di questo tipo, quest'anno mi sembra la prima volta, bene o male che accade, e sinceramente per come dovremmo sapere essere il calcio, come funziona il calcio da una vita, sappiamo che ogni tanto queste partite succedono. E quindi per come la vedo io, non è un dramma, perlomeno per il momento. Poi se dovessero trovare continuità, chiaramente i discorsi cambiano, ma per il momento io non ne farei sinceramente un dramma. Ho anche letto in queste ore tanti giudizi del tipo, molto bravo Tiago Motta, Tiago Motta ha giocato, ha interpretato un'ottima partita. Allora, bravo in senso generale, sì, Tiago Motta è un bravissimo allenatore, e ce lo sta dimostrando ogni domenica. Ieri, ragazzi, Tiago Motta si è allegrizzato. Si è allegrizzato, gli è andata bene, perché ha vinto la partita, come purtroppo spesso va bene anche allo stesso Allegri con la sua Juventus. Però onestamente per il tipo di analisi e il tipo di descrizione che giustamente veniva fatta dal Bologna, quello che ho visto io ieri non è stato un Bologna superlativo. Poi chiaramente è stata una scelta da parte di Tiago, e ripeto, alla fine gli è andata bene. Quindi meriti a lui per essere riuscito a portare a casa il massimo. Però ieri non è stato il vero Bologna di Tiago Motta. È stato un Bologna riadattato, che per carità ha funzionato, ma che sinceramente io non mi aspettavo di vedere, diciamo, sottomesso all'Inter per più di 100 minuti. Perché poi questa è stata la realtà. L'Inter per 110 minuti di fatto ha tenuto il Bologna, non dico tutto nella sua area di rigore, però comunque l'ha gestito molto bene e ha tenuto il pallino del gioco tutto il tempo. Poi purtroppo nel finale siamo un attimo scivolati e loro sono stati bravi e ci hanno fregato da questo punto di vista. Altro tema molto importante, la gestione. E questo è il macro tema forse legato alla partita di ieri. Io personalmente non mi sento di essere così critico come altri invece sono stati. Ne abbiamo parlato anche stamattina nel club e c'erano opinioni discordanti. Questo significa che comunque c'è materiale sia per sostenere una tesi che per sostenere l'altra. Quello che ho visto io sinceramente è stata un Inter che intanto ha messo in campo la formazione, secondo me con delle giuste rotazioni, compatibilmente con gli uomini a disposizione, che per esempio ti impediscono oggi purtroppo di far riposare acerbi, di far riposare bastoni, ti impediscono di fare un turnover totale, anche volendolo. Quindi però hanno giocato tanti giocatori che sono a tutti gli effetti delle riserve, i centrocampisti di riserva hanno avuto minuti, Arnautovic eccetera, e era secondo me la formazione adatta per poter battere un Bologna altrettanto rimaneggiato, perché anche Tiago Motta ha fatto delle rotazioni, che affrontava in casa davanti a più di 60.000 spettatori. E infatti i numeri della partita lo dimostrano, perché poi l'Inter ha creato tutti i presupposti per poter vincere questa gara. Il discorso dei cambi, anche qui grande questione di cui si è parlato, in particolare collegandola al problema fisico che l'Altaro Martinez ha avuto, al momento non ci sono ancora novità rispetto alle sue condizioni, dovrebbe fare gli esami alla fine rispetto a quello che, contrariamente a quello che si era detto nell'immediato post partita, domani pare che faccia gli esami, vedremo che cosa avrà fatto. Io credo che la lettura che abbia avuto Inzaghi sia stata questa. Ho dominato per 70 minuti, ho avuto tante palle gol, ho creato molto più del Bologna. Se io metto in campo i primi tre cambi che ha fatto al settantesimo, Turam, Di Marco e Barella, e non tolgo Lautaro, quindi ricreo anche la coppia d'attacco più forte che abbiamo visto fino ad ora, probabilmente nel giro degli ultimi 20 minuti un gol riesco anche a farlo e riesco a vincere, a passare il turno e a evitarmi i supplementari. Poi ragazzi il calcio non è matematica, uno fa una stima, fa un ragionamento, lo mette in pratica, a volte funziona, a volte non funziona. Non è detto che Inzaghi abbia ragionato così, però il pensiero che ho avuto io è stato questo. E non era nemmeno secondo me un'idea così balorda, perché ripeto, 70 minuti avevi quasi dominato, fondamentalmente poteva starci di dire faccio tre cambi anche con i titolari, ne nasce un gol e vinco la partita e mi risparmi i supplementari. Sforzo 20 minuti di Lautaro per risparmiarne 30 a tutti gli altri. Poteva essere questa la logica. Purtroppo non ha funzionato, perché il Bologna non solo si è salvato prima del novantesimo e nonostante poi sia andato sotto è riuscito anche a ribaltare la partita. Sul tema Lautaro poi ragazzi, anche qui molti hanno detto era da togliere. Sì, in effetti si poteva anche togliere per azzerare completamente i rischi. Certamente era un'opzione. Da una parte poteva esserci il discorso che vi ho fatto un attimo fa sulla vittoria dei 90 minuti. Dall'altra abbiamo visto tutti esattamente quando Lautaro si è fatto male. Perché io, a me mi pare di aver visto che a un certo punto c'è stato un passaggio al centrocampo del Bologna, orizzontale, su cui lui, come spesso fa col gambone, ha provato ad allungarsi per intercettarlo e lì probabilmente ha iperesteso il muscolo. Perché dopo quella mossa mi pare che abbia iniziato a toccarsi l'inguine e da lì in avanti poi ha avuto problemi. In quei minuti poi che sono trascorsi tra quell'episodio e l'uscita alla palla che ha portato poi al cambio, è andato ancora a pressare, a inseguire gli avversari. Quindi io dico anche, non sto facendo una colpa a Lautaro, sia chiaro, però dico anche, gestisciti, risparmiati, sai che sei stanco, sai che l'hai giocata tutte, che sei magari al limite. Non andare a pressare fino all'ultimo secondo, non allungarti su quel pallone a centrocampo dal quale può nascerti il problema. Si poteva evitare anche così questo infortunio, questo problemino, lo vedremo. Quindi questo rientra un po' nel discorso che dicevo prima e cioè che uno può farsi, secondo me, perlomeno dei piani, delle prospettive, ma poi il calcio molto spesso è imprevedibile e le cose possono cambiare come non avevi previsto, molto banalmente. Quindi a questo punto speriamo che non si sia fatto nulla e che quindi questa cosa venga dimenticata in fretta. E la vera grande critica che io faccio a Inzaghi, l'ho detto anche nel video di ieri, ma lo voglio ribadire, è stato il cambio di Bissek. Perché nell'ottica di risparmiare dei minuti ad Acerbi o a Darmian, era molto più sensato, secondo me, sostituire uno di questi due per mettere Pavard e non Bissek perché ha monito. Cioè, chi se ne frega, mi assumo molto più volentieri il rischio di vedere Bissek espulso in un ottavo di Coppa Italia che non magari vedere un Darmian o una Acerbi che si fanno male e che mi devono star fuori un mese. Quello è stato un errore dal mio punto di vista, però in Zaghi sappiamo che con i cartellini gialli ha questa cosa e l'abbiamo visto anche ieri. Ultima cosa, la grande domanda con cui voglio chiudere questo contenuto. È un bene uscire dalla Coppa Italia? È stato un bene più che altro essere usciti, un'opportunità o un danno? Ora, io sulla Coppa Italia l'ho detto più volte, così come ogni competizione nazionale, ritengo che sia una competizione da onorare e mi fa molto piacere quando l'Inter la vince. Io non sono mai stato uno di quelli che ha parlato di coppette e ci sono 1750 video e dirette e contenuti in cui io ho sempre contrastato l'idea di chi dice ma sono coppette. Sono coppette per chi non le vince. Chi le vince invece gli dà valore. Nel caso specifico dell'Inter, quindi, mi dispiace che l'Inter sia uscita dalla Coppa Italia, che non sia riuscita a difendere un titolo che, ripeto, l'anno scorso ha vinto quindi nera effettivamente detentrice. La mentalità che piace a me è quella di onorare tutte le competizioni come peraltro Inzaghi ha sempre fatto. Quindi, da questo punto di vista siamo anche abituati bene, se vogliamo. Mi dispiace quindi essere usciti, ripeto. Nella situazione di quest'anno, però, in questo specifico momento, è diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso l'Inter con tutte quelle sconfitte in campionato e con quel Napoli che è andato fin da subito fortissimo, secondo me si era intuito che lo scudetto sarebbe stato praticamente impossibile dopo i primi mesi. Tanto per l'Inter quanto per tutte le altre. Quindi la Coppa Italia poteva anche essere una sorta di come dire, di strumento da utilizzare per non concludere la stagione magari con zero titoli o con un titolo alla Supercoppa italiana e alla fin fine farsela andare bene così, tra virgolette. Quest'anno c'è un obiettivo che a tutti gli effetti appare alla portata che al momento sembra vedere l'Inter come la favorita con una sola vera rivale che è la Juventus, poi vedremo se magari recupererà il Milan o qualunque altra e al contrario quindi la Coppa Italia secondo me anche comprensibilmente viene messa un pochino in secondo piano. Attualmente l'Inter anche per parola, per obiettivo dichiarato di Zhang, di Marotta, di Nzaghi, di tutti è concentrata sulla seconda stella. Quindi il motivo per cui io ieri dicevo per esempio non mi strappo i capelli è proprio questo perché dall'altra parte vedo un obiettivo, lo scudetto aggredibile, ottenibile se si fanno tutte le cose che abbiamo fatto fino ad ora a differenza dell'anno scorso dove invece questo obiettivo era svanito quasi subito. Per questo io dicevo ieri non mi strappo i capelli, non perché ritenga la Coppa Italia una competizione da non onorare, non l'ho mai detto, personalmente continuo a pensare che sia invece una bella manifestazione. Diverso, ecco da questo punto di vista secondo me sarà la Supercoppa Italiana. La Supercoppa Italiana sono due partite semifinale e finale e lì sono convinto che l'Inter anche per la mentalità di Inzaghi farà di tutto per vincerla perché è questione di quattro giorni e ti porti a casa un trofeo e anche dal punto di vista proprio temporale è un peccato non sfruttare un'occasione di questo tipo. La Coppa Italia invece oggi sei a dicembre, la finale è a maggio, ci sono in mezzo altre partite, non sai mai come può andare, uscire agli ottavi dispiace però ripeto nel momento in cui siamo oggi diciamo che me ne faccio una ragione. Poi alla fine cos'è che succede? A fine anno in base a chi avrà vinto lo scudetto si cambierà anche il giudizio sulla Coppa Italia perché se l'Inter vince lo scudetto della Coppa Italia non ne fregarà più nulla nessuno, ve lo posso mettere per iscritto oggi. Se l'Inter non vince lo scudetto e non vince la Champions come è molto probabile state sicuri che giustamente si tornerà anche a dire però non potevamo allora giocarci meglio la Coppa Italia e provare a rivincerla. È normale però essendo una Coppa secondaria tra virgolette è inevitabile che il giudizio che gli si dà dipenda anche da quello che succede nella Coppa e nella competizione primaria che è lo scudetto. Questo era quello che avevo da dire mi invito quindi a farmi sapere la vostra nei commenti in generale e soprattutto su questa macro domanda cioè è un danno o un'opportunità essere usciti dalla Coppa Italia fatemi sapere cosa ne pensate vi aspetto anche nel club di Passione Inter www.passioneinter.club anche per il nuovo appuntamento del giovedì sera il watch party del club di Passione Inter che comincia stasera quindi quale migliore occasione per entrare a far parte del nostro club ed infine come sempre chi mi seguo in podcast lo trova in descrizione se mi segui su YouTube ti lascio un approfondimento qui da recuperare.